e ciao a tutti i puoletti miei qui il vostro jam c'è uno preferito che vi parla allora questa intanto avviso forse ma dico molto certamente tipo all 80 per cento riuscire a portare a portarvi una clip ogni giovedì comunque allora questo è un video di ringraziamento grazie raga il il mio video benvenuti sul mio canale ha raggiunto le 100 visualizzazioni allora so che quelle visualizzazioni e sarebbe bello che fossero iscritti ma purtroppo non è così e so anche che gli altri youtuber mica festeggiano per le visualizzazioni ma io sapete un po come il nostro jam c'è è molto così diciamo originale allora grazie grazie di aver visto così tanto così tanto benvenuti sul mio canale poi guardate le mie clip forse li faremo tipo parlando parlando di cioè faremo riflessioni ok per ora non ho nulla su cosa farvi lavorare quindi vabbè dai concludiamo questo clip con un iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi ogni mio mitico video e un saluto dal vostro giancia uno preferito ciao 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 ciao